Allarme calabroni al parco cittadino frequentato ogni giorno da famiglie e bambini in cerca di un po' di fresco in queste settimane d'afa terribile. I visitatori dell'area verde di Sant'Elena hanno però notato che nel terreno di un boschetto avevano costruito un alveare sotterraneo i terribili calabroni. La posizione dell'alveare era molto pericolosa perché praticamente invisibile e il rischio di calpestarlo a questo punto diventa altissimo con conseguenze rischiose per adulti e bambini. Il comune corse i ripari organizzando subito un intervento notturno per agire nel momento in cui i calabroni sono meno attivi. L'alveare è stato coperto da uno strato di terreno con un'escavatrice e sigillato in modo da rendere definitivamente inoffensivi gli insetti. Abbiamo eseguito l'intervento di sistemazione per il nido d'api o di calabroni che avevamo qui al laghetto. Adesso speriamo che dopo questo intervento, fra un paio di giorni, che la situazione sia tutta quanta risolta. Ringrazio tutti per la partecipazione e mi raccomando non andate vicino al luogo di intervento fin tanto che non toglieremo il nastro.